Il primo obiettivo è compiuto. Quando ho invitato Roberto Saviano ho detto che devi venire a Cagliari perché non sei mai stato in Sardegna, almeno pubblicamente, e poi perché dobbiamo battere il record di presenze dell'anno scorso quando in questo splendido porto un grande scrittore a Mossozza ha raccontato la sua letteratura, la sua scrittura e il suo paese travagliato. Perché il 000 di Roberto Saviano racconta il nostro paese travagliato, come già aveva fatto Ingomorra splendidamente, racconta un mondo travagliato. Io dico brevemente due parole su questo libro per chi non l'avesse letto o per chi fosse stato un po' forviato da qualche critica e da qualche generalizzazione dei media. Roberto Saviano non è un giornalista totalmente, non è totalmente uno scrittore, nel senso che non fa una letteratura, una scrittura di pura invenzione, totalmente di pura invenzione. Se questo pensate che sia un libro sul traffico della cocaina, quindi poi con le fonti e altre cose, non è neanche esattamente quello. In questa che potrebbe essere apparentemente una debolezza, secondo me è la forza del racconto di Roberto Saviano nel libro e la forza del racconto di Roberto Saviano che sta facendo in tutta Italia raccontando da questo libro il mondo. Perché 000 è un'ossessione, è un'ossessione nel senso che uno di quei libri, si chiamano opere mondo, cioè in quei libri che da soli vogliono spiegare tutto il mondo. Cioè dentro questi libri precipita tutto il mondo, nel senso che in 000 vengono raccontati con linguaggi diversi una serie di cose che hanno come filo conduttore la cocaina, per cui c'è una specie di orazione iniziale in cui dice quello che sta seduto accanto a te tira la cocaina, se non è quello sarà quello dietro, se non è quello sarà quello a destra, se non è quello a destra è l'autista dell'autobus che ti ha portato qui e via via via, è un processo così ossessivo perché dobbiamo entrare in un procedimento di racconto che non riusciamo mai a fermare perché la cocaina ha invaso il mondo e attraverso la cocaina si può raccontare questo mondo che è fatto di comunicazione, di iper comunicazione, di velocità, sono tutte caratteristiche legate alla cocaina, ai suoi effetti, e però è anche un libro che partendo da una cosa, poi dell'ossessione delle merci, Roberto ci parlerà perché dall'ossessione delle merci partiva anche Gomorra, è anche un libro che attraverso questa polverina costruisce una specie di geografia nuova, cioè il mondo è come impazzito, avvolto dentro il racconto di quali sono i traffici della cocaina, cioè c'è la piantina in Colombia o in Venezuela o in Peru o in altri posti e da questa piantina al dentista che la sniffa, che forse non ha neanche, anzi sicuramente in molti casi non conosce neanche 4-5 passaggi di quest'uso, quasi come se fosse un gin tonic o poco più, c'è un mondo in mezzo, c'è la comunicazione, c'è la navigazione, una serie di sotterfugi che sconfinano nella creatività quella più eccessiva, c'è una questione di traffico, ci sono lotte, interi stati posseduti da narcotrafficanti, intere regioni, grandi quando il nord Italia sono comandate da bande paramilitari, alcune sono violentissime, sono solamente dei criminali, altri che si propongono come narrazione, cioè bande che dicono siamo qui per redistribuire a tutti i nostri contadini della nostra zona, quindi noi non siamo dei narcotrafficanti ma siamo dei benefattori, abbiamo delle regole, cioè c'è tutto un mondo, c'è una specie di arretratezza culturale e insieme c'è quella velocità e quella postmodernità di cui la cocaina è senz'altro uno dei simboli più forti. Allora una delle prime cose che vorrei chiedere è intanto quant'è che hai visto in questo racconto di questa polverina che qui vedete nella copertina del libro che emerge da questo nero, così, no? Che è come il nostro cervello, il nostro pensiero, forse anche oniricamente. Quando è che hai visto nel racconto della cocaina un modo, cioè quanto ti sei ossessionato con questa polverina? Tale da pensare di costruire il tuo secondo libro che dopo un libro importante, straordinario come Gomorra, è stato un libro difficilissimo, tutti l'abbiamo atteso, nel senso che è un libro che di nuovo creasse una nuova forma di narrazione, come era stato per Gomorra. In realtà l'ossessione verso queste storie arriva quando queste storie le incontri. Mi spiego meglio, hai la sensazione quando ascolti alcune intercettazioni, piuttosto che segui delle storie incredibili, dal Messico alla Spagna, dalla Grecia al nord Italia, dalla Reggio Calabria alla Sardegna, alla Corsica, hai la sensazione che stai per la prima volta fissando qualcosa che sembra la verità. Cioè tu dici tutto ciò di cui mi sono occupato, tutto ciò che osservo, ascolto, mi sembra, rispetto a queste storie che osservo da vicino e ne comprendo la potenza, quelle mi sembrano false. Non è così, non è vero che sono false, ma è vero che queste storie ti danno la sensazione che hai un accesso alla verità più immediato. Quando tu ti rendi conto del giro economico che c'è dietro queste storie, immenso, ma immenso significa immenso, poi ci arriviamo anche per capire quanto conta in Sardegna questo giro economico, ma tu ti poni subito la domanda, ma dovrebbe essere il dibattito nazionale quotidiano, cioè noi dovremmo avere paginate sui giornali cartacei, online, ma soprattutto anche spazi televisivi, insomma su questi temi, e invece niente, vengono relegati al sequestro, all'omicidio, alla tossicodipendenza, che sono tutti ambiti importanti, ma che non fanno cogliere l'aspetto centrale, cioè la potenza vera sia di queste storie, ma soprattutto dell'influenza economica. L'ossessione quindi diventa tale, perché a un certo punto, io per fare questo libro sono anni che lo stavo, e non lo volevo neanche consegnare, perché ti sembra sempre che manca una storia, io tra l'altro avevo consegnato all'editore quasi il doppio delle pagine, poi diventava una bibbia gigantesca, perché hai sempre la sensazione che sta mancando qualcosa, perché ti arrivano storie, 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 e una più incredibile dell'altra. Se mi capita di leggerlo, il primo pensiero verso di me non sarà positivo, sarà, ma questo è un mitomane, non può essere, non può essere, il primo pensiero sarà questo, io voglio che sia, vorrei che sia questo, cioè, io non può essere, perché se davvero questo avesse ragione, o comunque queste storie fossero reali, c'è qualcosa che non va nella mia vita, nella vita del mio paese, che di queste cose non ne fa priorità, non può essere, ed è proprio questo dubbio che voglio insinuare, che permette poi questo dubbio, a chi lo vuole coltivare, chi vuole coltivare questa sorta di diffidenza, di andare ad approfondire, a vedere, a verificare, ci sono molte di queste storie, sono già state un po' annusate dalla cronaca, ci sono documenti pubblici, quello che le rende, come dire, ed è qui, ritorno sempre alla mia ossessione, quello che le rende letterari, è il racconto dal punto di vista del narratore, quindi storie vere, con dati, inchieste citate, ma dal punto di vista dell'autore, dell'attore, in questo senso attore narrativo, gli inglesi, in genere tutta la scuola anglosassone, dicono, bisogna avere la giusta distanza, da una narrazione, io faccio esattamente il contrario, io voglio avere la giusta vicinanza, e quindi mi ci metto in mezzo, e un'inchiesta, ci metto dentro il mio commento, cercando a non di compromettere l'inchiesto, quello che viene detto, tra l'altro l'inchiesta è una verità giudiziaria, che non significa verità universale, ma a me serve una cosa, che il lettore, quando apre le pagine, c'entra dentro, quelle storie le senta proprie, perché è lì la vittoria, in qualche modo, della mia sfida, non far sentire queste storie marginali, lontane, non mi è mai interessato, fare evadere il lettore, posto che gli scrittori fanno evadere i lettori, sono pieni di talento, ma non sento di essere quel tipo di scrittore, io ho sempre voluto invadere il lettore, in qualche modo simile a quello che Don Torino Bello dice da qualche parte, te lo ricordi il meccanismo che lui dice, non bisogna più confortare gli afflitti, ma affliggere i confortati, e quindi il generare una sorta di attenzione, verso queste storie, che faccia dire, ma non può essere, questo mi riguarda, ecco perché, ecco perché, in un territorio dove a stento, ce lo dicevamo poco fa a tavola, dove a stento sopravvive un ristorante, se ne avranno 4 di improvviso, ma dove, come fanno? ah ecco perché questi centri commerciali, ah ecco perché, si vincono le elezioni in questo modo, ma ah ecco, inizia a darti una serie di risposte, poi quando finisci in una sessione come la mia, ma spero che non finisci mai così, esageri persino, a volte io devo essere disciplinato, prudente, perché non c'è paese al mondo, dove prima di metterci piede, non studi dove hanno investito, c'è la mappa di Stoccolma, che ho in testa, o di Montpellier, piuttosto che di Madrid, è totalmente diversa dalla mappa che ha una persona normale, insomma un turista, ma anche un conoscitore di quella terra, mi divido le città tra le zone di spaccio, il riciclaggio, le famiglie che se la spartiscono, ormai diventa così, e quindi io volevo, attraverso la potenza letteraria, che è uno strumento, cioè una potenza di cui io utilizzo, ne usufruisco, salgo diciamo sui cingolati della letteratura, in questo senso, e mi permette delle storie, che magari sono anche passate sotto gli occhi, del rullo giornalistico, come news, sequestrati 40 chili, sequestrate 400 chili a Gioia Tauro, ti passano, ti sembra una roba, la signora che sta ascoltando, anche magari con attenzione, il lavoratore che sta pranzando davanti al TG, questa notizia, gli passa un secondo, e tra l'altro cosa gli riguarda, si dirà, beh così forse ci sanno meno ragazzi che stanno male, non pensa che da quella roba là, ne tirano 40, 80 milioni di euro, quindi da quel container c'era un supermercato, da quel supermercato c'erano lavoratori, quindi assunzioni, da quell'assunzione c'era voto di scambio, da quel voto di scambio c'era governo, e quindi, quella notizia che, passa così, e passa così, non perché qualcuno ha pagato, il direttore, magari fosse così, i giochini degli estremisti sono sempre questi, pensare che dietro ci sia sempre una cospirazione, magari, perché scoperta la cospirazione, salta il banco, no, c'è qualcosa di peggio della cospirazione, indifferenza, l'abitudine, il far passare le cose così, perché le priorità, e questo davvero fa paura, le priorità sembrano sempre alte, pensate quanto tempo, noi stiamo ascoltando i litigi, di questo governo, di queste forze politiche, movimenti e partiti, no, litigi, 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 ogni tanto qualche propostina, poi litigi, conflitti, commenti, mentre tutto questo sta avvenendo, da qualche altra parte, vicino a noi, c'è chi fa affari, 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 soldi, 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 soprattutto per la crisi, perché la crisi che cosa fa? Abbassa le difese immunitarie, o pensate che gli istituti di credito, in difficoltà di liquidità, iniziano a fare il test del DNA sui soldi liquidi, magari qualche anno fa lo facevano quando l'economia era più sana, adesso chi è che rifiuta denaro liquido? Ma in nessuna parte d'Europa, non è un fatto nostro. E poi, non solo, cos'altro fa la crisi? Permette a loro di entrare nelle aziende, le aziende saltano, serve liquidità, servono nuovi partner, e entrano, molto più facilmente, di ieri. ieri un'azienda sapeva se apro all'oro, la mia azienda diventa l'oro, oggi l'azienda decide, può decidere due strade, o mi apro l'oro, o mi apro le banche, le banche me la portano via, l'azienda. Guardate, questo sta accadendo anche qui, ci sarà tempo per dimostrarlo, per ora è solo una congettura, e conoscenza dei sardi che queste cose le studiano. Ma un'azienda, a un certo punto cosa avviene? Arrivano i loro soldi, con l'oro intendo, non solo un'organizzazione, diciamo il segmento criminale, imprenditorial criminale, arrivano, ti comprono un'azienda, ma non ti tolgono dal vertice dell'azienda, perché tu sei bravo, sai fare il tuo mestiere, quindi dicono, tu sei la mia testa di legno, i soldi arrivano a me, se non lo fai, paghi fisicamente con la tua famiglia, quindi tutti pagano, non solo, ma lo Stato non potrà mai sequestrare quell'azienda, perché non è mia, quindi se per esempio, la famiglia Mancuso di Vibo Valenza, si prende tre aziende qui, o dei lidi, non è che, in testa a loro, quindi una volta che c'è un'ordinanza, che è stato cautelare, o un sequestro, ai loro patrimoni, tolgono queste aziende, no, certo, se dimostrano che quella persona ha una testa di legno, allora sì che te la tolgono, ma in genere, anche il meccanismo delle teste di legno, per esempio nel mio paese, l'antimafia facilmente ti beccava, perché intuiva che per esempio, capo di un supermercato, la testa proprietaria di quel supermercato, c'è una persona che ha un passato all'edilizia, legato alla famiglia, trovavano il modo, adesso invece, cosa fanno le organizzazioni? Mantengono esattamente il DNA dell'azienda, prima del loro arrivo, quindi è difficilissimo, ecco, di tutto questo, dovremmo sentire parlare i ministri, di tutto questo dovremmo sentire dibattiti, anche forti, anche acerbi, nel senso che si può anche iniziare, a fare un dibattito, quindi ancora non maturo, per approfondire così nel dettaglio, come sto cercando di fare questa sera, ma almeno un accenno, niente, niente, e anche qui, qualcuno è pagato? Forse, ma qualcun altro no, qualcuno cerca di non affrontare questa cosa, perché teme di essere esposto? Politicamente sì, perché c'è tutta una parte d'Italia, c'è tutta una fetta enorme dell'elettorato, che se vedesse trattare questi argomenti, magari se la tratta quel ministro, piuttosto che quel partito, inizierebbe ad allontanarsi da quel partito, ma questa è solo una parte, forse anche piccola, ma tutta l'altra parte? Vi ricordate le ultime elezioni? Il tema legalità, sì, affrontato, in maniera sempre molto generale, le mafie, la corruzione, ma non è che c'era un racconto reale, le persone volevano sentirsi raccontare di questi dannati compro oro, qualcuno è onesto tra loro, ovviamente, per fortuna, ma una grossa parte, sono il peggio della criminalità, che sta investendo lì, che è il concluttimento, ai ricettatori, le finanziarie che spuntano ovunque, volevano, sentivo anche nelle richieste che vedevo sul mio Facebook, sentivo che l'elettore, il cittadino diceva, ma parlate di questo, raccontate, i furti in casa, per esempio, il terrore del nord-est, non soltanto, anche persino quello, che il politico medio crede essere, una cosa legata ai clandestini, la cattiveria dell'immigrato, persino quello, può essere affrontato come un problema organizzativo, perché le bande romene, che per esempio, rubano a Roma, sono organizzate, come strutture mafiose, paramafiose, forse è il termine esatto, quindi persino in quel caso lì, si poteva affrontare, affrontare quell'argomento approfondendo, e dando al cittadino e all'elettore il proprio punto di vista, e poi dire, questo è il mio modo di vedere, questo è il mio modo di risolvere, che ne pensi, mi segui, non mi segui, invece sembra sempre tutto sul piano esclusivamente di opinioni, molto generiche, che spesso si somigliano, l'uno contro l'altro, il demolirsi le proprie vite a vicenda, il proprio privato, rubi, non rubi, no, non rubi quella, rubi, proprio rubi, però il, diciamo, la questione era, è molto, è molto forte, no, e come fai, come fai, io forse sono stato fragile in questo, ci sono proprio cascato dentro, cioè a un certo punto, queste storie hanno iniziato poi a riempire, riempire le mie notti, i giorni, mi sembrava impossibile, mi sembrava impossibile che storie, come quelle che ho raccontato, faccio un cenno velocissimo, a un certo punto russi e sudamericani fanno un'alleanza, i russi sono di casa, non a Cagliari, un po' più su, ma in quest'isola ci sono molto, e i russi, con russi, intendo criminalità russa, poi per fortuna ci sono anche, la parte maggiore dei russi sono per bene, ma, dicevo qui, la criminalità russa, in questa storia, incontrava la criminalità colombiano-messicana, e il gioco di trattativa, si fondava su un accordo, io russo ti do due chili di eroina, in cambio di un chilo di coca, questo permetteva di non far accedere ai cartelli russi, alle loro liquidità, benché immense, a un certo punto i sudamericani, non vogliono più stare in questo patto, sia perché a Sinaloa, soprattutto i messicani, producono un'eroina di ottima qualità, il mercato dell'eroina tende a contraersi, quello delle cocaine è immenso, e quindi in metà degli anni, fine anni 90, gli dicono non ci stiamo più, vogliamo con tanti, come con tutti, i russi, a quel punto non danno con tanti, sapete cosa gli danno? due sommergibili dell'armata rossa, cioè è incredibile, due sommergibili dell'armata rossa, per trasportare la coca degli Stati Uniti, e nel mondo, anche se non è mai stato provato l'ottavversamento transoceanico di un sottomarino dei narcotrafficanti, mentre è stato straprovato l'utilizzo dei sommergibili per gli Stati Uniti e il Canada. Quindi pensate, non è una cosa che tu dici l'hanno fatta di nascosto, l'hanno fatta in un modo clandestino, valigie, due sommergibili partono dalla Russia e arrivano dall'altra parte del mondo per trasportare i coca. Bene, e non solo, pensate, mentre io studio questa cosa, a un certo punto incontro Napoli, e mi sembrava davvero delirante, sto delirando, e incontro Napoli per questa ragione, perché il braccio destro della persona che sta trattando questo affare, Tarzan si chiama questa persona, il braccio destro di Tarzan, soprannominato, apre con i soldi anche di questa, diciamo, trattativa, perché dopo questa cosa lui diventa un importante broker della mafia russa e quindi riceve dai cartelli molto danaro per aver portato, come dire, con autorevolezza in porto questo patto. Ebbene, lui apre un mobilificio nel Vesuviano a Napoli, facendo concorrenza a Ikea. Allora, tu dici, ma come? Una storia che mi sembra lontanissima, che mi sembra delirante, cioè i sommergibili, che poi riguarda casa mia, cioè qui dietro, e nessuno sapeva ovviamente che quel mobilificio era di quel proprietario. Lui lì non ha neanche visto quel mobilificio, l'ha solo investito, ha messo una persona di fiducia e è andata. In quel mobilificio non c'è stato un passo criminale. Niente. Sono tutti danaro pulito, ripulito. Solo che, se tu questa storia la guardi, puoi dire facilmente, ah beh, ma queste storie che ci stanno sui giornali sì, e vedi il pezzo di quel pentito che ha detto dei sommergibili. Poi vedi un pezzo arrestato russo che era a distanza nel Vesuviano. Tutti pezzi. E quindi non senti la storia, non senti, per questo la letteratura, dico in questo senso, è potente, E non senti neanche che ti riguarda. pensi che è una roba di infami, di chiavici, di gente, insomma, pensi che sia tutta roba che non c'entra, sì interessante, forse un po' fascinosa per qualche mente incuriosita dal colore noir di queste storie, ma pensi che sia lontana, che tu ne puoi fare a meno per capire la tua vita di accedere a queste storie. E invece no, dannazione, invece la propria, anzi, è proprio il contrario. Tu non capisci del tuo stato di precarietà, del tuo stato d'ansia, del, se decidi di fare l'imprenditore, piccolo, medio, grande, se non conosci queste storie, non comprendi perché quando dai il massimo ti fregano sempre. E chi è che ti frega? perché questi mondi ovviamente non ti permettono solo di raccontare o di capire il mondo del narcotraffico, ti permettono di capire tutti i mondi che poi gli gravitano intorno, quindi della finanza, della politica, dell'edilizia, del turismo, della distribuzione al genere alimentare, tutti i mondi che fanno appello a questo mondo, quello del narcotraffico, perché è un mondo con tanta, tantissima liquidità. So se ho risposto. Beh, avete capito l'ossessione, no? L'ossessione è collegare come in quel gioco della settimana enigmistica 100 punti che sembrano appunto il bar sotto casa, il mobilificio nel Vesuviano, il film messicano sul cartello di Sinaloa o gli omicidi di Suda Suarez e altre cose, collegarlo in quello che sembra davvero una matassa infinita in cui non è possibile che sia tutto alla fine tutto così si tiene, no? Cioè, questo libro in questo viaggio è proprio come la capacità di districare perché andando a vedere dal mobilificio dove arriva si districa questo mondo e soprattutto si racconta una geografia nuova completamente perché in 000 c'è proprio la messa a fuoco la scoperta di quel mondo cioè tutti quanti hanno l'immagine diciamo siamo abbastanza c'è qualcuno più giovane ma tutti la coca è la droga degli anni 80 se leggete i romanzi degli anni 80 che andavano per la maggiore le mille lici due di New York ballo di famiglia insomma quelle che erano i minimalisti era la coca degli apis cioè di quelli che conquistavano la borsa era un po' una droga appunto pulita odiavano gli eroinomani che erano roba degli anni 70 per cui era questa cosa efficiente no? era tutta perfetta però era una droga per le classi ricche per i nuovi per i super per i quelli che guadagnavano in borsa io quello che vorrei che tu mettessi insieme in un racconto come questo che abbiamo fatto prima è quando è che questa rivoluzione avviene perché è una rivoluzione proprio è una specie di quarta rivoluzione industriale nel senso che c'erano le droghe che servivano allora c'erano le prime le anfetamine c'era la marijuana ed erano tutte droghe culturali cioè ogni droga di queste aveva una tara o una forma di appartenenza culturali venivano usate perché una rappresentava la negazione di un certo mondo il controllo un'altra era la fuga diciamo dall'ordine e tutto è così poi arriva questa droga che sembra appunto la cipria e tutto tutto il mondo cambia ma non solo cambia il mondo diciamo i consumatori che diventano cioè ci sono paesi adesso come racconta Roberto nel libro in cui non c'è niente ma c'è la cocaina cioè era una cosa quasi impensabile per le altre droghe ci sono paesi che hanno completamente cambiato il proprio sistema industriale sotto l'influsso della cocaina c'è una geografia che è cambiata in maniera pazzesca quello che vorrei che tu raccontassi adesso è in che periodo tra gli anni 80 e 90 la cocaina è diventata la centralità nell'economia illegale e la cocaina negli ultimi anni in Italia ha fatto sì che la mafia che era solitamente diciamo la mafia siciliana era la mafia dell'eroina pensava che l'eroina era per sempre perché l'eroinomene è uno che tutta la vita si fa raramente quelli che ne escono sono tanti ma percentualmente sono molti di più quelli che continuano a usare l'eroina e non ha capito questa rivoluzione come una mafia apparentemente raccontata come ancora più tribale arcaica come l'andranche da calabrese ha capito che la cocaina era la nuova quindi questo cambiamento di paradigma ha significato anche un cambiamento di potere nelle organizzazioni mafiosi italiane è proprio così succede questo la coca come ti scrivevi era percepita come la droga era non solo percepita era la droga dei ricchi dei ricchissimi costava moltissimo era una droga associata molto al sesso con l'eroina è difficile è impossibile avere un rapporto sessuale con la coca invece si porta dietro tra l'altro falsamente perché la coca porta all'impotenza quindi però si porta dietro l'immagine insomma delle grandi performance sessuali attraverso di essa ma soprattutto per le organizzazioni sembrava un mercato di nicchia cosa nostra diventa potente potentissima l'immagine per esempio che dava Tommaso Buscetta con l'eroina abbiamo fatto talmente tanti soldi che non c'era lo spazio le stanze i garage per metterli lui diceva noi non avevamo talmente tanta liquidità che non sapevamo come pesare dove dobbiamo pesare come nel film Blow per esempio si vede chiaramente cosa nostra investe sull'eroina anche per un'altra ragione perché le rotte permettevano un vantaggio su questo prodotto proprio dell'organizzazione siciliana Afghanistan che produce il 98% di eroina al mondo e quando vi parlano i talibano visto che è morto anche un nostro soldato a molte poche persone viene in mente che i talibano sono narcotrafficanti o credete che cosa siano soldati di Allah davvero sì certo questa è l'immagine ma sono narcotrafficanti e fanno oppio eroina e anche di questo non se ne parlano cioè tu vedi in Afghanistan e vedi la distruzione una delle terre più belle del pianeta come racconta Marco Polo che ci aveva passato di là definendo le persone che incontrava tra le più belle i loro occhi le pupille le sopracciglia lui descriveva questa bellezza e dice va bene in quel posto non c'è niente niente non ci sono pozzi di petrolio non ci sono miniere non c'è niente ma dove dannazione prendono i soldi davvero solo i conti correnti mandati dai sauditi lo Yemen nel Qatar l'oppio l'eroina ecco dove c'è la base economica per portare avanti quella guerra e guardate come un'altra volta una storia che ti passa così muore un soldato del tuo paese ti racconta la storia il bambino non il bambino a parte un'inchiesta e tu non sapevi che però tutta quella storia lì è generata dalla droga dalla droga e non c'è il dibattito su questo la riflessione su questo no perché? perché ovviamente i taliban parlano di questioni ideologiche l'islam prima faceva riferimento alla Colombia in Colombia ci sono narcotrafficanti le AUC paramilitari si giustificavano dicendo noi siamo anticomunisti le FARC i rivoluzionari colombiani fanno narcotraffiche dicono noi vogliamo noi facciamo un narcotraffico per la rivoluzione comunista c'è sempre qualcuno che cerca di mettere un ombrello alla propria attività soprattutto quando si tratta di guerre civili che le mafie non vogliono nessun ombrello politico e quindi che succede? Afghanistan dicevo Turchia Sicilia Stati Uniti Sicilia Spagna Sicilia Europa quindi era il centro loro vogliono puntare sull'eroina anche perché passa da loro si raffinava lì e non solo non credono alla coca e lì diventa come dire la vera crisi di cosa nostra cioè la vera crisi di cosa nostra non credono alla coca rispetto a Camorra e Drangheta perché l'eroinomane è una sorta di investimento sicuro per vent'anni si fa per vent'anni quindi mi porta soldi poi fa fare la sua fidanzata poi il suo cugino e sono soldi 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 il coca in ombre si fa una volta a settimana due volte a settimana è più difficile non comprendendo che invece l'abbassamento di prezzo della coca avrebbe portato a un allargamento immenso del mercato e la droga non è percepita come droga la coca è percepita come un aperitivo non te la butti in vena è una cosa con cui puoi lavorare con l'eroina l'eroina intendiamoci se leggete Barro per esempio oppure mille manuali l'eroina è la droga delle droghe la sensazione dell'eroina l'orgasmo l'orgasmo la stessa sensazione dell'orgasmo pensatela moltiplicata per 15 minuti 15-18 minuti quella è l'eroina con quella sensazione non puoi guidare non puoi neanche camminare bene a barcolli non puoi scrivere non puoi operare non puoi stare a una pressa non puoi stare su un'impalcatura non puoi stare con una donna non puoi stare con un uomo se ci sta ci stai male questa è l'eroina la coca è esattamente il contrario la coca ti permette di fare tutto in maniera performativa entrambe ti massacrano il corpo ma anche con poco utilizzo ci sono migliaia di dati che mostrano anche poche volte tu accedi alla sostanza ti può creare dei problemi seri al CNC al sistema nervoso centrale e non solo al cuore soprattutto io cerco anche di descrivere nel libro chimicamente quello che accade è come l'immagine che mi è venuta spesso è come una lampadina una lampadina che tu accendi spegni accendi poi gli dai energia gli dai energia gli dai energia diventa sempre più illuminata sempre più illuminata poi si brucia ecco i neuroni vengono talmente sovraccaricati che l'attività che ti genera neuronale la cocaina è un'attività che in genere quel neurone fa in anni e tu la risolvi utilizzando la coca in poche ore però ti permette di essere al massimo ecco perché è la droga del nostro tempo perché te la fai e non dormi i camionisti sono espostissimi alla coca perché tu la tiri e ti fai le nottate gli operai edili la tiri e lavori d'estate quindi non ti senti neanche in colpa io mica pippo per stare bene per godermela al party io pippo per portare soldi a casa sempre di più mi faccio i turni i taglialegna pensate già in canadesi un problema di coca gigantesco settore che non immagineresti proprio è un additivo in più anche simbolicamente questo almeno è la mia lettura sembra davvero essere la droga del nostro tempo perché è una droga che ti fa comunicare con l'eroina non comunichi sei fermo la palpita ti cala ed è un godimento interno la coca invece è una connessione continua ti senti connesso e come nel nostro tempo più condividi più senti di essere di più allo stesso modo la coca ti dà questa sensazione che ti sembra sempre ti sembra di essere connesso con tutto ciò che ti è intorno e la droga per esempio che usano spesso le prostitute anche perché tutti ti sembrano belli ma non perché vengono trasformate perché poi vengono percepiti in maniera diversa questo cosa porta porta direttamente ai nostri anni cioè quando la coca diventa l'investimento principale delle organizzazioni le organizzazioni dranghetiste fanno questo tipo di meccanismo sintetizzo in maniera anche un po' veloce ma per capirci sequestrano i soldi dei sequestri vanno in coca i soldi della coca vanno in pala meccanica in imprese dili le imprese dili vanno a costruire i condomini del nord Italia le autostrade il giro è questo sequestri coca coca aziende aziende appalti appalti politica questo è il giro i sequestri quindi diventano l'accumulazione originaria per accedere a questo mercato immenso e quindi diciamo la trasformazione delle mafie avviene anche come trasformazione delle droghe in più la coca a differenza dell'eroina è una droga che raramente ti porta al cert o raramente ti porta devi tirarne proprio tanta per essere immediatamente percepito un occhio esperto lo capisce subito ma diciamo è una droga che tu puoi gestire o hai la sensazione che puoi gestire prima del danno finale a differenza dell'eroina che dopo un po' finivi subito in astinenza e finivi subito nel giro le organizzazioni questa cosa la capiscono e ci strainvestono e soprattutto c'è anche una trasformazione perché la coca il centro della colombia adesso il centro del mondo dell'arcotraffico è il messico se non leggi non capisci il messico non capisci il tuo mondo per capire il mondo si studia la cina per capire il mondo si studia l'india per capire il mondo si deve studiare il messico la colombia è diventata un paese produttore ma non ha più quella centralità che aveva avuto con pablito e scobar è diventato famoso perché si dita la politica nella follia addirittura si propose di pagare il debito estero colombiano pensate adesso il centro del messico e l'Italia e l'Italia in tutto questo è incredibile io sono un privilegiato di essere un italiano che studia queste cose perché l'immagine è questa che si dice negli ambienti sudamericani la coca è una pianta è una pianta molto strana che ha le foglie in sudamerica e le radici in Italia perché perché le regole non le leggi le regole del narcotraffico le hanno costruite le organizzazioni italiane e le leggi contro le mafie le ha fatte la democrazia italiana quindi noi siamo il paese che ha la migliore giurisprudenza antimafia del mondo che insegna al mondo al mondo intero dalla Nuova Zelanda alla Danimarca come si combattono le loro mafie le loro corruzioni e abbiamo allo stesso tempo forse proprio per questo noi abbiamo una grande giurisprudenza antimafia e abbiamo il paese con la mafia più antica più invasiva e soprattutto noi che veniamo percepiti spesso come luogo comune ma ahimè spesso è proprio così come il paese senza regole dove tutto è possibile dove contano più i rapporti che le leggi ebbene un paese che viene percepito così produce una mafia con più regole assoluta al mondo una mafia piena di regole la criminalità italiana è assolutamente vincolata da mille vincoli da mille regole simboliche non soltanto Buscetta racconta quindi stiamo parlando in qualche modo del passato remoto di Cosa Nostra che le affiliazioni quando lui viene impungiuto insomma così diceva cioè significa punto quando entra nell'organizzazione Cosa Nostra ha una struttura interna rigorosissima per cui tu non puoi essere affiliato se sei stato fascista sei o sei stato comunista sei o sei stato coinvolto in questioni penali tua mamma o tuo padre hanno tradito si sono traditi e questa cosa si è saputa non puoi essere affiliato non ti devi vestire in maniera sgargiante non devi cambiare continuamente partner queste erano le regole ovviamente affiliavano ventenni quella era l'età intanto anche quelli più grandi ma queste erano le regole ah pensate c'è una roba monacale nel tempo sono cambiate molto cambiate però quando Bucetta entra in Cosa Nostra questa è la regola una delle cose che mi ha sempre stupito per esempio rispetto all'organizzazione del mio territorio i corleonesi ferocissimi e anche incapaci perché attraverso il terrorismo contro lo Stato loro distruggono il loro potere quindi non comprendono fanno una serie assurda di errori strategici ebbene una delle cose che mi ha sconvolto è che nelle lettere private tra di loro la cosa che più indignava sia Irina ma anche Provenzano era quando per esempio un uomo si dimenticava di sua moglie o si dimenticava della sua famiglia quindi si innamorava di ragazzini oppure erano delle cose prime per essere esclusi dalla direzione dell'organizzazione incredibile incredibile stiamo parlando di persone che considerano la vita umana nulla eppure hanno queste regole appunto regole non leggi è la prima cosa che ho imparato nella mia terra una cosa sono le regole che sono per gli uomini una cosa sono le leggi che sono per i mensi uomini le leggi sono per tutti quelle che devono campare quelle che non hanno la capacità di prendersi quello che vogliono di campare bene di essere maschi maschi alfa quelle sono per tutti le leggi le regole sono per cosa nostra cosa sono l'organizzazione perciò si chiama così le regole sono è qualcosa di nostro e quindi le organizzazioni calabrese le organizzazioni campane le organizzazioni siciliane in parte pugliesi hanno strutturato intorno alla regola la loro forza e la regola spesso io ci provo a dimostrarlo all'inizio del libro è una regola dell'infelicità così l'ho voluto definire provo a spiegarlo velocemente io nel primo capitolo cerco di raccontare come un boss che si trova in America l'informazione mi viene data da un poliziotto americano educhi i suoi affiliati che sono un po' di affiliati latini ci sono un po' di albanesi tutte queste nuove borghesia così le definisco ferocissime e come li educa? li educa dicendo innanzitutto se tu vuoi pensare di cambiare il mondo giustizia libertà donne e uomini uguali spazio per tutti se tu credi a queste fosserie o sei un miliardare che può giocare a fare questo per avere un po' di consenso alla gente o sei un fallito che siccome non riesce a prendersi quello che vuole sta lì a far sindacalizzare a utilizzare il diritto quindi ti divide subito questo boss ti divide subito il mondo in questo modo dopo di che ti dice tu vuoi qualcosa vuoi essere qualcuno entra nelle regole nelle regole che ti permettono di prendere quello che vuoi cioè se vuoi qualcosa te le pigliate te la devi prendere ucciderai? ucciderai non ucciderai corromperai? corromperai se qualcuno ti punta il dito devi essere cosciente che quello che ti sta puntando il dito non è meglio di te perché ti sta puntando il dito magari per guadagnare magari per essere qualcuno magari per avere qualche ragazza in più non è meglio di te a meno palle di te perché non ha saputo prendere la pistola non sa prendersi gli ergastoli e se arriva un altro e ti punta il dito dicendo eh ma quello è un imprenditore legale ma che imprenditore legale? dice sempre questo che imprenditore legale? non esiste un imprenditore legale c'è sempre una magagna c'è sempre qualcosa che non va ipocriti tutti quindi pensate già questo ragionamento come rafforza l'affiliato magari c'è un 25 anni avanti pensatelo e poi dice attenzione non fidartevi vai di nessuno chi vi tradirà chi vi vuole bene vostra moglie i vostri figli i vostri amici perché le persone lontane gli amici lontani quelli non vi possono tradire perché voi avete già distanza non sapono niente di voi chi sa di voi vi tradirà e aggiunge anche in questo caso la sua etica dell'infelicità dice vostra moglie dice che l'ha trascurata non avete pagato abbastanza i vostri figli dicono che siete assenti non sganciate abbastanza i soldi la misura sono i soldi e poi aggiunge ma se solo per i soldi vi muovete i soldi non li fate perché la regola è proprio questa la regola significa imparare da chi è stato prima imparare da chi è lì la regola è qualcosa di empirico e allo stesso tempo di atavico cioè empiricamente cioè quindi secondo i fatti comportarsi in quel modo ha sempre funzionato ma se secondo te non funziona più hai la possibilità di cambiarlo di cambiare regola purché tu sia così potente da cambiare regola faccio un esempio la regola cosa vuole la regola cosa vuole arriva l'imprenditore deve costruire un palazzo qual è la regola ti rivolge all'organizzazione del territorio quale vuole quanto vuole il 20% gli dai il 20% in cambio di il 20% quella organizzazione cosa ti dà la possibilità che arrivano i permessi subito perché va dal vigile urbano va dal sindaco va dall'assessore sa che linguaggio usare non per forza la corruzione sa che linguaggio usare per farti avere i permessi subito questa è la regola mettiamo che l'organizzazione di quel territorio vuole cambiare la regola dice non più il 25% il 50% dei lavori quindi non le tangenti li devo avere io allora si presentano le organizzazioni e dicono ma questa non era la regola io la cambio questo sapete cosa significa? guerra ci si ammazza se vincono loro la regola è cambiata se vincono gli altri la regola rimane mutata questa cosa accadde veramente questo è un esempio per me fatto in astratto ma accadde su una cosa ancora più terribile Paolo Di Lauro durante una faida una faida era un paesino del napoletano contro il ruocco questo ruocco che si è detto capaceccio si è testa di cecio quando scoppiò questa faida lui a un certo punto si pente e lo stato italiano deve portare via 40 persone immediatamente dal paese perché erano tutte collegate a lui e oltre 100 parenti portati nel nord Italia per un periodo perché potevano tutti essere obiettivi pensate quando c'è questa faida di Lauro adesso non ve la sto a spiegare è una faida incredibile incredibile ma quale Tarantino non c'è sceneggiatura al mondo che potrebbe raccontare quello che hanno combinato andavano nei comuni nella sede del comune quando finivano i parenti quindi hanno ucciso cugine scappato lo zio non c'è più il nonno non sapevano più i parenti andavano a vedere le parentele sul comune e le altre persone venivano ammazzate non lo sapevano neanche di essere cugine di terzo grado pensate no che cosa arrivavano a fare ebbene in questa faida Paolo di Lauro decide di ammazzare la mamma di Ruocco e le sparano in faccia fuori dal suo negozio era una signora anziana era una cosa che non si poteva fare e tutte le organizzazioni mafiose siciliane calabresi napoletane casertane baresi gli mandano un messaggio dire ma che che stai combinando questa cosa non si fa fa parte delle regole del nostro agire regole che non significa che sono persone per bene regole significa che agire in questo modo ci ha permesso di avere consenso con la gente ci ha permesso di avere potere la regola non è mai metafisica è fisica serve a qualcosa e lui infatti risponde a me servite a vincere questa faida ho sbagliato eliminatemi allora loro gli dicono no non sarai eliminato anche perché fatti tu questo è territorio tuo semplicemente ti può essere fatta la stessa cosa e noi non interverremo cioè se ti toccano anche a te i genitori noi non potremmo andare da qualcuno a dire che questa cosa è sbagliata e così si risolve e lì capisci questa è la regola queste sono le regole e questo boss mafioso parla di questo gli uomini delle regole e gli uomini della legge gli uomini che credono che si possa arrivare pensate quanto io ci ho pensato quando l'ho ascoltato e che io l'ho ascoltato un file audio fu una cosa terribile che poi ho riportato nel libro quando l'ho ascoltato ho pensato dannazione io ho sempre pensato a quanta mafia ci fosse fuori di me e invece non ho mai pensato a quanta mafia ci fosse in me perché questi ragionamenti io li ho fatti alcune volte la diffidenza totale il fatto che non valga mai la pena tanto ti vincono sempre i più furbi tanto vince sempre l'alleato la sensazione che tu chiunque abbia a qualsiasi posto o così è emerso è sempre una chiave che è sempre uno sporco è sempre un compromesso loro dicono questo e infatti il mio campanello di allarme quando si parla in maniera generica perché loro lo dicono continuamente provate leggete qualsiasi inchiesta inchiesta di valore dove i magistrati sono riusciti a dimostrare anche il loro DNA culturale dicono sistematicamente sono tutti uguali tanto facciamo tutti schifo tanto tutti quanti hanno qualcosa da nascondere mettendo sullo stesso piano errori noi siamo esseri umani sbagliamo e crimini mettendo sullo stesso piano fragilità debolezze siamo esseri umani e corruzioni e loro vogliono questo che tu sia lì a dire tutto una chiave fa tutto schifo e oggi loro sono arrivati all'obiettivo perché le persone io lo sento giro molto il paese in questa fase spesso odiano più i politici che loro loro sono ormai andati entrati in ombra anche perché portano danaro portano lavoro quindi non solo e stavo dimenticando la cosa più importante loro pagano per il loro potere infatti questo discorso che io metto all'inizio del testo sapete come si chiude? in questo modo col boss che dice il vostro braccio destro se un giorno vi capita siete bravi e diventate leader ok il vostro braccio destro sarà tanto più bravo quanto riuscirà a eliminarvi se voi prendete un braccio destro che non vi vuole fregare non è un bravo braccio destro è uno yes man un mediocre voi dovete prendere una persona che vi deve eliminare perché questo significa che prima di eliminarvi vi farà guadagnare consenso potere danaro come non mai pensate il cinismo totale di questa affermazione che si chiude dicendo non c'è altra strada carcere e morte mentre gli uomini di legge gli uomini di legge se la vogliono spassare e invece quanta parte del mondo crede che queste storie siano storie di lusso certo c'è un po' sia una storia di bella vita certo per un po' e infatti c'è poi la risposta delle risposte non so se vi è mai capitato di riflettere ma credete che quando i politici i politici che attualmente sono in galera sono in galera perché sono deboli sono in galera perché sono fortissimi è esattamente il contrario di quello che sembra un politico che accetta di andare in galera è un politico potente che sa che il suo elettorato lo ammira e soprattutto lui se l'è comprato quindi per il fatto che sta in galera lo ammira ancora di più perché prende la responsabilità del suo potere che significa prendersi la responsabilità del suo potere significa che se voglio portare il lavoro a Casal di Principo o nell'Agra Versa dei compromessi li devo fare dei soldi li devo cacciare e chi mi dice anima bella io vengo sistematicamente scritto chi mi dice tutto questo non si fa tutto questo è una schifezza tutto questo è crimine è solo un furbetto perché è così che si campa e campa pure lui così e quindi sto facendo riferimento a Cosentino immagino lui quando va in galera è molto più forte di prima molto innanzitutto sta dicendo a qualcuno io mi faccio la galera per il silenzio sulla campagna e non ti rovino la vita questo ditemi se non è potere lui poteva oggi parlare e dico vi racconto tutto riguardo come è stata gestita la questione campana dei rifiuti vi racconto tutto come da Roma mi imponevano no silenzio potere il suo elettorato ci sta la famiglia vedete un imprenditore tanzi quando vengono arrestati piangono dimagriscono divorziano le famiglie sono a pezzi i figli si nascondono entrano in crisi totale si ammazzano perché? perché loro hanno vissuto ipocritamente cioè non infrangiamo le leggi siamo persone corrette ci compriamo mezzo paese perché siamo pieni di talento siamo voluti bene siamo belli abbiamo belle macchine questi invece crescono in un'educazione totalmente diversa cioè se tu vuoi quella Ferrari o se tu vuoi quella persona se tu vuoi frequentare quell'attrice devi passare per la contraddizione criminale e sennò tutti lo fanno devi passare per rischiare la vita fare tangenti essere gentile essere seduttivo sapere con chi parlare rischiare quando devi rischiare quindi mettono in conto che il carcere quale schifo è e anzi è il rischio del mestiere e quindi quando vanno in galera non è che hanno i figli che si vergognano sono i figli orgogliosi che difendono la linea dicono innocente perché così bisogna agire così bisogna fare non c'è mai stato questa non è camorra è semplicemente prassi si è iniziato a guardare il mondo così di te porca miseria allora questo non è la suburra non è qualcosa che non mi riguarda io ho pensato così un sacco di volte nella vita magari non ho agito così ma molte volte ho avuto questa diffidenza ho avuto questa sensazione e loro così formano generazioni generazioni di persone che vanno in galera mica pensa nessun mafioso nessuno neanche Binnu Provenzano che è quello arrivato in galera più vecchio vecchissimo rispetto agli altri ma nessuno pensa di scampare al carcere nessuno ma veramente nessuno tu vieni affiliato andrangheta utilizza dei riti alle mie parti pure si utilizzavano dei riti per esempio la capora napoletana so che affilia senza ritualità almeno così sembra non è mai stata scoperta il rito lo sapete vieni portato in una stanza e ci sono persone messe a ferro di cavallo intorno a te viene letto un rito un rito che inizia sempre battezzo questo locale come lo battezzarono i nostri tre vecchi se i nostri tre vecchi lo battezzarono con ferro e catene io lo battezzo con ferro e catene quindi vabbè poi si chiude con e ora è formata società insomma si chiude così i tre vecchi sarebbe Rosso Mastrosso Carcagnosso che nella leggenda mafiosa sono i tre cavalieri spagnoli che scappano in Italia perché vendicano la loro sorella violata e non sposata quindi loro ammazzano nello stupratore quindi devono scappare e vanno a Favegnana a Favegnana si nascondono nelle grotte e progettano il codice d'onore cioè le regole attraverso cui fondare le mafie uno se ne va in Campania e fonda la Gamorra uno se ne va in Calabria e fonda l'Andrangheta un altro se ne va in Sicilia e fonda Cosa Nostra un mito fondante che benché ridicolo che è francamente ridicolo però serve nella ritualità e quella ritualità si chiude con una santina si usa l'espressione femminile che cambia da regione in regione la Madonna dell'Arco la Madonna di Polsi Santa Lucia dipende dalle organizzazioni questa santina ti viene messa in mano e qui ci sono varie varianti c'è quello che ti punge il dito e il sangue va sul santino c'è quello che invece il primo del santino fa baciare l'immagine a tutti gli affiliati presenti basta che uno non baci sei morto perché significa che non ti vogliono affiliare e tu non puoi portare fuori l'immagine dei volti che hai visto ma raramente accade questo dopo che tutti baciano ti viene messo il santo in mano il sangue cade sulla figurina la figurina prende fuoco e te la tieni in mano devi bruciare quindi devi un po' ustionare quasi mai brucia tutta il lacerto che rimane cioè il pezzo non bruciato del santino lo conservi per tutta la vita e io infatti molte volte l'ho trovato nei portafogli degli ammazzati sapete quando ci sono i referti necroscopici c'è a fianco anche nel portafoglio c'era e quindi vedendo i documenti tantissimi hanno ancora questi pezzi di santina dentro il portafoglio e là capisci subito che è stato affiliato e ci sono poi le diverse gerarchie la società maggiore la società minore complicatissime oggi gerarchia è una dote è un danaro e cosa del genere io subito chiudo in questa cosa risposta lunga ma non sa da fare e dicevo la questione si chiude l'affiliazione si chiude con la consapevolezza che una volta che sei dentro questa struttura non solo non la puoi abbandonare ricorderete la ritualità che faceva per esempio la nuova camorra organizzata ti dava un pezzo di pane e ti dice questo pane ti nutrirà se sarai fedele sarà piombo se tradirai quindi tu sai che da lì non esci sai che però lì ti daranno una struttura dove e ahimè e così ve lo chiude la risposta è una cosa ancora più terribile se esistono cose terribili c'è anche questa l'organizzazione rispetto alle aziende punta sui giovani cioè loro le organizzazioni spesso entrono in conflitto perché sono troppo vecchi troppo vecchi si fanno 40 anni i dirigenti e ci sono tutti quelli che hanno 25 28 21 19 che stanno lì bravissimi che hanno già i contatti con i sudamericani hanno i contatti con i porti che vogliono avere ruolo e le organizzazioni italiane puntano puntano soprattutto sui giovani quindi che cosa fanno aprono continuamente i libri si dice così l'affiliazione e fanno entrare 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 a volte è successo nella mia zona sono talmente tante le richieste che non affiliano più e sapete cosa succede? che gli aspiranti affiliati cercano di fare rapine per mostrarsi forti per far capire che sono capaci per farsi vedere dall'organizzazione quindi in questi territori a volte capitano delle cose assurde omicidi assurdi simbolici bombe messe fuori le procure che non l'ha fatta Camorra l'hanno fatta qualcuno che aspirava a poter entrare e a dire guardate noi ci siamo siamo un piccolo clan siamo una famiglia siamo un gruppo vorremmo far parte del Casalesi o di un'Andrina per esempio tutto questo guardate come è uguale a contare alla vita ordinaria guardate come un ragazzo a vent'anni entra in un'organizzazione e sa che se ce la mette tutta dopo dieci anni ha un locale rapporti con le aziende e invece dall'altra parte sa che dopo dieci anni se ce la mette tutta resta precario deve emigrare guardate vista così non sembrano due mondi separati sembrano due mondi vicini scelti e a quel punto che nasce l'inquietudine perché se tu non conosci questo mondo da questo mondo non ti difendi non ho risposto ti volevo interrompere esattamente qui perché avete ascoltato questa descrizione i santini l'affiliazione il rito sembra un po' l'immagine quando tante volte tu hai detto tu sì ma la mafia è roba da sud con i loro riti con le loro cose sembra da come è possibile che poi questa situazione qua cioè queste che sembrano bande di strada all'inizio almeno prima di entrare nell'organizzazione poi produce dei nomi faccio due nomi e vorrei che Roberto anzi sono tre perché una è una coppia raccontasse perché questo libro funziona anche così cioè funziona qui abbiamo parlato di categorie cioè Roberto ha nominato dei nomi però questo libro è pieno proprio di personaggi di persone perché la storia dell'ossessione della ricchezza dell'ossessione di diventare forti potenti che veicolando la cocaina vendendo la cocaina produce delle storie cioè avete presente questa storia qui appunto le madonne di Polsi i santi e altre cose e io direi a Roberto di spiegare per esempio come da questa situazione si arriva alla storia di Martin Wutz della Vachovia Bank che è una banca d'affari americana e a Pannunzi e Locatelli detti anche Bebe e Mario che sono due diciamo che non hanno mai sparato che sono due colletti ma non bianchi sono oltre proprio il livello e a Martin Wutz che è uno di quelli che lavora nel gota delle banche internazionali per dire che poi tutto questo diventa titoli dalla borsa diventa Chase Manhattan Bank Royal Bank of Scotland diventa titoli di Stato diventa un'economia sideralmente lontana da questo eppure i passaggi sono stati due o tre cioè il passaggio dalla Madonna di Polsi e dal Calabrese che va a fare il broker in Sud America poi quasi dopo non sanno neanche loro cioè questi che hanno fatto i viaggi che hanno contrattato le tonnellate di droga due passaggi dopo questi miliardi perché sono numeri pazzeschi me ne aveva segnato qualcuno insomma sono numeri enormi fatturati che equivalgono a più delle sette sorelle del petrolio cioè cose pazzesche queste diventano nel sistema finanziario quello che sembra la cosa più lontana da questa situazione quindi racconti la storia di questi due estremi sì vale la pena diciamo salutarci con questa storia con queste storie anche queste incredibili incredibili almeno per me quasi inimmaginabili succede questo i due broker Locatelli e di Bergamo e Pannunzi e di Roma loro fanno i broker broker significa non affiliati infatti non sono affiliati a nessuna organizzazione broker significa raccolgono i soldi delle mafie ma non solo per andare a comprare grandi quantitativi in Sud America e importarle poi in Europa broker significa che prendi 20 milioni dai Mazzarella 10 milioni dai Santa Paola 5 milioni dai Mancuso 4 milioni dai Di Lauro 6 milioni dai Casalesi quindi arrivi quindi arrivi lì con 200 milioni di dollari di euro prima era dollare adesso tutte le transazioni vengono fatte in euro per un semplice motivo l'euro ha la moneta da 500 quindi è più facile la carta moneta quindi è più facile trasportarla con poche carta moneta hai cifre importanti il dollaro non è una moneta equivalente carta moneta quindi cosa succede tu vai là con 200 milioni puoi ottenere degli sconti giganteschi la forza dei broker è avere i sistemisti i sistemisti sono coloro che prendono la coca e te la mettono sulle navi e non solo sulle navi il sistemista è colui che costruisce il sistema per il trasporto a quel punto succede questo le organizzazioni produttrici messicani colombiani ti danno due tipi di contratti il primo tu mi dai metà dei soldi dell'intero carico subito e l'altra metà quando il mio carico ti arriva ma mi devi dare una persona impegno e chi sia questa persona lo decido io perché tu magari mi dai un affiliato di cui ti vuoi liberare me lo dai io lo sgozzo te ti faccio un favore invece io te lo dico io ho la tua figlia mi dai tua figlia e tanto vive in lusso alberghi meravigliosi col fidanzato chi vuoi lo decido io chi mi devi dare impegno quando tu paghi ritorna a spesa nostra poi c'è un altro elemento invece io ti do tutto il carico subito tu mi dai tutti i soldi subito ma se il carico lo porti tu a destinazione quindi il contatto nel porto è tuo hai una percentuale di sconto sino al 40% sulla merce se invece te la devo portare a casa io quindi i contatti per portarteli nel tuo porto devo essere io ad averli paghi di più sino al 25% in più poi c'è il livello assicurativo cioè se io ti sto spedendo il carico di coca e viene beccato il carico lo pago o non lo pago fai l'assicurazione cioè tu mi dici io ti do 20 milioni di euro per il tuo carico di coca se viene beccato nelle tue acque tu mi devi ridare il carico se viene beccato nelle mie acque quindi nel Mediterraneo oppure nella seconda parte dell'Oceano Atlantico a quel punto io quei 20 milioni non te li do tutti e 20 ma te ne do 10 tu però ti impegni a ridarmi scontato una seconda partita di coca in tutto questo c'è un'altra motivazione incredibile non so se vi è mai capitato di vedere quando ci sono i sequestri dei panetti di coca dei simboli sopra tutta la coca che parte nei panetti ha dei simboli la faccia di Bart Simpson il baffo della Nike una lettera cinese una tigre lo scorpione che era il famoso simbolo della coca di Medellín sapete perché? perché questi inondano il mondo di coca viene sequestrata secondo alcuni studi tipo il 2% della coca che gira niente cioè ci sono intere polizie in ogni paese del mondo che si muovono solo contro la droga e sequestrano una piccolissima c'è qualcuno che invece dice il 20% ma comunque tutti gli studiosi e gli osservatori diciamo concordano che è una piccola parte sapete perché quel simbolo? perché quando in tv io vedo io un narcotrafficante vedo il panetto con lo scorpione che hanno preso me altrimenti che ne so da quel porto passano io, i messicani, i calabresi, i napoletani qual è la coca che hanno sequestrato? la nostra o la loro? io vedo il simbolo e dico è la nostra questa e quindi rientro in quel patto assicurativo bene c'erano due italiani a costruire questo del nord centro nord e tra l'altro questo Pannunzi è arrestato che è andato a 30 anni si è fatto mettere in clinica perché stava male ed è scappato e adesso sta a Santo Domingo e il governo mica gli chiede l'estatizione figuriamoci l'altro Pasquale Locatelli detto Mario di Madrid è stato arrestato ma sta in Spagna che hanno un regime carcerale diciamo che loro vogliono vivere vogliono vivere rispetto a quello italiano e stiamo parlando di persone che hanno irrorato il paese di Danaro Locatelli ha formato una bank hanno finanziato aziende Pannunzi Pannunzi addirittura la prendeva pure in giro perché a un certo punto quando lui inizia a fare il broker di eroina si compra un negozio all'euro di Roma e lo chiama il papavero poi prendendo in giro i copernico del narcotraffico hanno cambiato come girava il mondo sapete perché? ho fatto tutto la manfrina mi stavo dimenticando di questo perché loro sono così potenti che riescono a comprare senza vincolo cioè si presenta Pannunzi chi gli dà la coca non vuole né essere pagato subito né avere la garanzia della persona a impegno né avere la garanzia del porto gliela dà e basta sa che torna il danaro addirittura gliela danno in conto deposito cioè che lui può anche pagare dopo quando questi hanno venduto essere così significa essere potenti come un amministratore delegato di una delle più grandi banche d'Europa e non solo banche appunto ed è la storia di Martin Woods che è una storia lunga ma la sintetizzo Martin Woods è una persona che lavorava all'ufficio antiriciclaggio e intuisce che questa banca la sua banca Washovia terza banca più importante al mondo america e americana c'erano delle cose che non andavano cioè proprio intuiva e aveva delle prove e quindi segnalava diceva qua c'è della liquidità che non mi torna segnalava 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 fin quando a un certo punto gli arriva una lettera di licenziamento lei diventa insomma un forte esaurimento nervoso e lui ce l'ha pensate che lui viene ricoverato perché impazzisce inizia a dire no ma c'è c'è un'anomalia io la vedo è qui questa anomalia distruggerà la banca distruggerà i nostri clienti perché sono flussi di denaro che entrano non sono giustificati alla fine guardate poi il caso faccio veloce ci sono in realtà un sacco di colpi di scena incredibili cioè se avessi voluto fare un racconto di fiction non avrei mai potuto trovare idee così o colpi di scena così vado veloce alla fine lui si incontra una cena un party con un poliziotto e gli svela ormai pieno di psicofarmaci considerato un reietto dalla famiglia un pazzo che vedeva le cose assurde gli svela questi suoi conti lui che è uno della dea inizia a fare il suo studio e conferma a quel punto il Patriot Act che Obama ha messo non più solo sul terrorismo ma anche sulle mafie terrorizzato che la crisi come sta facendo facesse entrare negli Stati Uniti tonnellate di miliardi di dollari che cosa fa? va dalla Washoe e dice noi abbiamo forti sospetti che riciclate avete due strade come il Patriot Act determina o andate a processo ma nell'attesa del processo le vostre attività sul territorio americano sono sospese qualora poi veniste assolti a processo verrete risarciti oppure transate dichiarate quello che avete fatto e dal giorno dopo potete continuare a fare attività sul territorio Washoe dichiara abbiamo riciclato 300 miliardi di dollari della coca 300 miliardi non so sembra un mitomane ma se andate a poi osservare su cui c'è centinaia di documenti che lo dimostrano lo dichiarano loro altrimenti non l'avrei mai potuto dire mi avrebbero massacrato 300 miliardi di dollari una cifra immensa quella che loro hanno dichiarato e che lo stato poi c'è stato infatti c'è tutto un movimento in America era anche quello di Occupy Wall Street che era conto diceva no non potete far transare però non hanno pagato di quei 300 tipo ne hanno pagati 20 anche un po' meno mi pare non potete fermarvi qui invece loro volevano chiudere subito cioè le autorità comunque volevano dare un segnale alle banche ma c'è troppa crisi di liquidità se tu inizi a chiudere tu troppi rubinetti però pensate 300 miliardi ma mica è finita qui HSBC più grande banca europea Londra altra cosa anomalia 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 a quel punto anche lì arriva il pato e tech dice allora blocchiamo le vostre attività no mostriamo le carte in quest'ultimo anno abbiamo riciclato un 1.9 miliardi di euro di coca allora ora dovete immaginare che per molto meno per cifre molto più piccole si mette a mano le pensioni ok per cifre molto più piccole si mettono più tassi vi rendete conto che queste storie non sono mai state affrontate attenzione migliaia di giornalisti nel mondo ne hanno scritto affrontate significa affrontate come priorità per le nostre vite cioè che poi sia scritto nel blog che poi ci sia il libretto che poi ci sia l'articolo questo sì nella società dell'informazione così allargata nulla è nascosto e tutto si sa ma è tutto su wikipedia qualcuno può dire ma che c'entra questo non ha mica reso centrale mica ha fatto comprendere realmente il meccanismo watch ovvio con quei che ha riciclato quella massa di danaro quello di danaro sapete cosa diventa diventa azienda diventa finanziamento alle aziende se io do una banca c'è stato il riciclaggio in Swisscom vi ricordate i soldi dell'andrangheta in Swisscom pensate se io do 100 miliardi di dollari a un istituto di credito io posso decidere la politica di quell'istituto di credito per esempio che finanzino tutti gli imprenditori edili della Costa Smeralda per esempio posso deciderlo e a quel punto gli imprenditori edili con questi finanziamenti faranno pressione sulla politica questo significa invece letta così letta come così 300 miliardi tu dici madonna quanti soldi ma non pensi che è la tua vita che è il tuo governo la tua istituzione perché il giro è quello sono masse di danaro che vanno a influenzare la tua vita quotidiana e la cosa che lascia speranza è che un solo uomo considerato pure matto era riuscito a scardinarlo ed è qui la magia di tutte queste storie per cui ti diventi un ossessivo che il lettore il cittadino colui che decide di conoscere colui o colei che decide di conoscere di dedicare del proprio tempo ad approfondire a smontare i meccanismi a cambiare idea perché tu puoi prendere una fonte che magari ti dice fesseria un libro javico un documentario superficiale cambi idea mille volte non capisci torni indietro vai avanti questa è una cosa complicata e contraddittoria mica semplice in totale coerenza o come dire con il tuo credo politico destra sinistra centro mistico religioso ateo in cui non c'entra poi ognuno darà ovviamente la sua interpretazione ma qua si tratta di cose che vengono prima di ogni divisione che fanno capire a che punto è arrivato la situazione del capitalismo contemporaneo delle nostre democrazie se tu dedichi del tempo ti stai vaccinando se tu inizi ad approfondire se tu non dici poi si ammazzano tra di loro oppure schifezza ti schifo se tu non arrivi alla cosa più banale che c'è andate a quel paese tutti quanti da annati maledetti loro questo vogliono io quotidianamente vorrei crollare con i nervi e dire una cosa del genere ma so che è quello che vogliono se andassi a un processo e mandassi a fare in culo i boss che stanno dentro le gabbie è proprio quello che vogliono così si crea l'oiato tra me e loro tu sei contro io sono contro quelli che stanno fuori non hanno capito niente si tifa o qualcuno che tifa per me o qualcuno che tifa per loro e nulla si muove e invece no io non vi manderò a quel paese vi racconterò che cosa avete fatto cercherò a volte sbagliando a volte centrando dimostrare che cosa avete fatto che cosa combinate chi sono i vostri alleati e lo farò cercando anche di rispettare anzi dovendo rispettare le regole del diritto le regole del rispetto l'autorevolezza la diversità di idee tutto questo loro non vogliono che ci sia loro vogliono che ognuno di noi parteggi tifio tifo per quello o tifo per quell'altro ma che non sono dialoghi perché a quel punto possono essere loro a fare la differenza la cosa più preziosa che c'è è parlare a chi la pensa diversamente e non considerare chi la pensa diversamente un chiavico perché la pensa diversamente loro invece vogliono che ci sia l'immediata associazione la destra che dice sinistra epocrita fate i vostri affari e la sinistra dice destra mafiosi loro sono terrorizzati che qualcuno dall'altra parte ad esempio a sinistra nel mondo democratico in cui io mi riconosco loro sono terrorizzati da chi da quella parte dice attenzione tra di voi non siete tutti una chiavica attenzione guardate che andando in verso quella direzione le cose cambiano sono terrorizzati allora io ogni volta che comprendo che approfondi e dedicare tempo io non so come dire non ho mai voluto fare politica farmi eleggere oppure candidare perché non mi sento in grado di fare una cosa del genere io so raccontare credo di saperlo fare con quanto meno è quello che voglio fare e quindi mi sono reso conto che studiare mi ha sempre difeso capire queste cose mi ha come fatto un vaccino mi ha permesso di comprendere o di intuire quando non sono stato capace di comprendere certe dinamiche mi ha difeso mi ha fatto sentire uomo in questo senso possiamo concludere con il verso che dici di mi trova ho cercato di trovare una specie di nome che mi difendesse in questa discesa nel nel narcocapitalismo in queste storie deliranti e assurde e questo nome è una donna è una poetessa bulgara che si chiama Blaga Dimitrova o Dimitrova e e lei mi ha dato la forza vera per capire capire in un verso semplice quanto anche il mettercela tutta e non portare a niente il mettercela tutta e apparentemente non riuscire a prendere il palio fosse importante i poeti hanno questa capacità gigantesca di darti senso qui so che si è ricordato la scimbosca oggi stesso la scimbosca non so se vi è capitato se no beati voi se non vi è capitato perché potete adesso andarlo a leggere lei crea un verso per me il più bel verso del novecento lo so che dico un'enormità ma è soltanto per me è soltanto il mio giudizio questo verso quando lo leggi hai la sensazione che l'hai detto mille volte alla persona che ami o che è amato cioè lo leggi e dici ma l'ho sentita mille volte questa cosa ma forse l'ho persino detta è quasi una sensazione di plagio e il verso lo ricorderete è ascolta come mi batte forte il tuo cuore un verso semplicissimo ma è un'esplosione dice tutto esattamente tutte le parole che hai in tutta la tua vita cercato di dire alla persona che amavi tua madre come la tua compagna il tuo compagno come tuo padre come un amico tutte le volte che hai parlato di amore tu quella cosa là hai detto e forse hai usato parole simili la leggi e trovi cittadinanza universale al tuo sentire ascolta come mi batte forte il tuo cuore allo stesso modo io ho trovato in questo verso qualcuno che mi dicesse a me comunque vada è stato importante quello che hai fatto leggi nessuna paura che mi calpestino calpestata l'erba diventa un sentiero ecco grazie molto grazie a tutti